L'Università Cusano continua a lavorare intensamente per questo territorio. Ha ottenuto quest'anno sei borse di studio, 15.000 euro per ogni borsa di studio, cioè triennale più magistrale, per un totale di 90.000 euro. I ragazzi quindi possono studiare a Trapani, ottenere borse di studio, andare a Roma, andare nei campus romani, studiare anche a Roma in presenza e online, attraverso videoconferenze. Questa è una cosa importante per il territorio perché poi questi ragazzi potranno essere assunti molto più facilmente nelle nostre industrie, nelle nostre intelligenze, nei nostri ragazzi che rimarranno qui nel nostro territorio. A proposito di imprese, abbiamo altre novità? Abbiamo novità perché abbiamo avuto già l'adesione di diverse aziende della provincia di Trapani che intendono assumere come ulteriore borsa di studio questi nostri ragazzi. Per esempio ieri abbiamo avuto la conferma per un'azienda agroalimentare che trasforma olive per l'assunzione di un ingegnere agroindustriale a tempo determinato. Però prima gli daranno gli stage durante il percorso di laurea e quindi approfondiremo le tematiche, le problematiche della chimica delle olive. Un'altra adesione l'abbiamo avuta dalla clinica Eleonora di Castelvetrano che fanno fisioterapia e in genere poliambulatorio e assumeranno uno psicologo nostro per un anno a tempo determinato. Poi se i ragazzi vanno bene mantengono il posto di lavoro. Ora facciamo un appello a tutte le imprese della provincia di Trapani e anche fuori. Se vogliono dare una borsa di studio senza soldi, cioè con l'assunzione, con le promesse di assunzione, noi manderemo i ragazzi affaristici da loro. Loro ci possono chiamare ai numeri che sono sicuramente in sovraimpressione e quindi noi faremo la pubblicità e daremo i ragazzi formati per la loro attività che svolgono.